Lunedì sono riprese le lezioni in presenza, come sta andando? Allora, lunedì sono riprese le lezioni e devo dire che abbiamo una larga partecipazione, le classi sono quasi al completo ed è veramente bello, dopo tanto, risentire queste voci di bambini, di sorrisi, pianti dei piccolini che ormai abituati un po' a vivere la scuola all'interno delle proprie abitazioni. Sicuramente stiamo proseguendo con rispetto scrupoloso del protocollo interno anti-Covid, la massima attenzione, anche perché non possiamo abbassare la guardia, ma sicuramente i bambini nella scuola si sentono sicuri e noi siamo responsabili proprio di questa loro sicurezza. Che misure avete adottato per proteggere questi bambini? Allora, le misure sono sempre quelle che sono previste dal Comitato Tecnico Scientifico e in modo particolare, dagli ultimi documenti anche dei prefetti, la raccomandazione principale è soprattutto riguardo al trasporto scolastico. All'interno della scuola loro e i bambini conoscono esattamente la procedura, igienizzare le mani, poi si aereggiano le classi nell'ambito della mattinata, orari intervallati, secondo ovviamente le situazioni, spostandosi, quindi loro sono veramente molto bravi al rispetto delle regole. Probabilmente è importantissimo far riprendere le lezioni in presenza a questi bambini che ormai non ce le facevano più, erano a casa da troppi giorni. Allora, guardi, io credo che la scuola è per antonomasia il luogo di formazione dei bambini. Noi dobbiamo soltanto dare fiducia ai bambini e valutare le situazioni. Noi comunque non abbiamo mai smesso di continuare il nostro percorso formativo, anche attraverso la DAD, che se ci ha trovato spiazzati a marzo 2020, adesso i bambini erano comunque preparati e stiamo parlando di una tutela di un diritto alla salute. Quindi noi siamo riusciti a conciliare la loro formazione, ma anche una tutela della salute che in questo momento è prioritaria. Io mi auguro veramente che i bambini possano continuare in presenza. L'importante è valutare, e io parlo ovviamente a chi ha in questo momento il potere di aprire, chiudere, come abbiamo visto negli ultimi tempi, di valutare che stiamo parlando di bambini. Noi garantiamo ormai dall'11 anche lo sportello d'ascolto in presenza, perché loro devono acquistare nuovamente fiducia, serenità psicologica e ritornare ai loro ritmi. Questo è il nostro agurio, l'agurio che faccio ai bambini, ma soprattutto alle famiglie che possano vivere con serenità, anche perché noi non abbassiamo la guardia. Noi stiamo molto attenti e ovviamente per ogni eventuale chiusura abbiamo sempre la necessità di dati scientifici, tecnici, oggettivi.